Assessore Francesco Marconi, la Giunta Provinciale stanze i primi finanziamenti per rendere autosufficienti energeticamente 11 istituti superiori? Sì, praticamente è la prima azione che la provincia di Teramo svolge, sempre relativamente al patto dei sindaci. Praticamente abbiamo un milione di euro dalla regione Abruzzo e un altro milione di euro verrà messo a disposizione proprio dall'ente provincia e in questo modo faremo praticamente 11 tetti fotovoltaici su altrettanti edifici, praticamente sono scuole dell'ente provincia. Renderemo queste scuole autosufficienti da un punto di vista energetico ma non solo, praticamente lasceranno per i prossimi 20 anni, produrranno delle economie che poi potranno essere di nuovo riversati per azioni sempre nel campo delle energie rinnovabili o dell'efficientamento energetico sempre presso gli stessi istituti.